Da giugno e per tre anni Romania e Italia insieme impegnate allo studio integrato e alla sensibilizzazione sui vari effetti delle malattie oncologiche. Il progetto è finanziato con 4,8 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per una collaborazione che vede l'Istituto Rumeno del Patronato di Medicina Integrativa e l'Associazione Oncologica di Senica, Cudia Assime. Con questi fondi saranno istituiti tre centri multiregionali per lo studio di 500 casi di malati di cancro e promossi 15 seminari per l'individuazione di una strategia di cura. Le finalità del progetto dal titolo Rete Multiregionali per la Terapia Integrativa e la Consulenza della Reintegrazione Sociale delle Persone con Diagnosi di Tumore sono creare un percorso multidisciplinare per gli affetti da malattie oncologiche in modo da curarli tramite la terapia integrativa e prevedere ad un loro inserimento nel mondo sociale e lavorativo. Il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo è un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo in grado del programo operazionale sectoriale di sviluppo delle risurze umane 2007-2013. Numele programului è Rete Interregionali per la Terapia Integrativa e la Consulenza della Reintegrazione Sociale per la Terapia Integrativa e la Consulenza della Reintegrazione Sociale ha un percorso da 36 mesi iar il progetto del progetto è di 4,8 milioni euro il progetto è di quasi 4 milioni e 800 mila euro in questo progetto è di 500 persone ha previsto 500 persone 250 sono diagnosticate con cancer della sen 250 sono diagnosticati con cancro al seno 200 con cancer uterino 50 con cancer uterino 50 persone con cancer uterino 50 persone con cancro di testicoli parteneri in cadrul progetto è di parteneri in questo progetto sono parteneri italiani sono nostri parteneri italiani e un partener din Romagna un ONG una asociazione non governamentale dal Romania l'obiettivo generale di questo progetto è di aumentare la possibilità di reintegrazione sociale a persoanelor diagnosticate con cancer da persone diagnosticate con cancro e a le asicurare consuliere e consultanza di specialità di dare consulenza psicologica di specialità pe problemele pe care acestia le ha in problemi